ecco l'aggiornamento di fortnite è ancora lì è ancora lì e si mette tre anni e tre ore 3 minuti e 3 secondi guarda dov'è l'aggiornamento guarda è ancora lì ecco il terzo video dell'aggiornamento di fortnite è ancora lì come vedete come vedi o ha finito ha finito l'aggiornamento guardate e guarda guardate preoccupate dell'aggiornamento fatto del gioco fortnite l'ho spinto prima sono cinque e mezzo così 5 e 30 e 30 e qualcosa e il gioco dopo cena a fortnite con il mio parente non posso chi è dire che è e nome che è non è spesso uomo Ehm... Cos'è un'acquente? Ah! 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 Oh my god! Oh my god! Ah! Ah! It's about drive, it's about power We stay hungry, we don't know But in the work Oh! This shotgun is nuts, dude! Like, 116 from that far From one of the worst to one of the best Oh my, 92 from that far Look at how hard we can hit this guy 105 from that far And that was a great one Let's see, let's see, can I do damage from here? Let's see 64! Nah, this thing is just next level Oh my god, dude I'm going for it Oh my god Ohhh, you know Yo! This is just great I'm definitely an other One ability I don't know You want your ghost You want your ghost You want mine Your ghost You want your ghost No Jews überhaupt Grazie a tutti 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 Fortnite need to remove this mode Grazie a tutti 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 Grazie a tutti